Ciao amici e benvenuti, in questo nuovo video di prima della redazione, ovviamente scritti diretta dall'uomo misterioso da Lady Blue e dal vostro amico Bomber. Insomma, navigando in rete mi sono imbattuto in questo MMO Action, chiamato Project LL. Insomma, sarebbe una sorta di division-like. Sviluppato e prodotto da NCSoft, navigando in rete mi sono imbattuto in questo video, l'ho guardato tutto per intero e, devo dire la verità, mi ha catturato l'attenzione. È uno sparatutto Action in terza persona, come abbiamo detto prima, fortemente ispirato da Division, che però ha alcuni elementi interessanti a sé. Ovviamente il gioco per il momento non ha una data di uscita, solo un generico 2024, Super PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Insomma, il filmato di gameplay ci fa vedere alcuni seguiti di azione, ci fa vedere anche diciamo gli equipaggiamenti, i mitra, armi, qualche tipo di abilità e in più anche la possibilità di usare i mezzi, tra cui anche dei robot armati. Graficamente, da quello che si è capito, utilizza il motore grafico Aria Engine 5 e l'abilitazione sarà completamente esplorabile. Insomma, sarà una sorta di mappa di 30 km quadrati, dove praticamente ci muoveremo sia utilizzando i mezzi o a piedi. Interessante, è un progetto che potrebbe rivelarsi, diciamo, un buon titolo. Ovviamente il team è sudcoreano, quindi è abitato a Seoul. Devo dire la verità, veramente, veramente un progetto da tenere d'occhio. Ovviamente appena ci saranno nuovi aggiornamenti, tra cui la data di uscita, vi teremo aggiornati. Direi da passare al prossimo thriller. Eccoci qua con due nuovi video di The Adelisland 2, che io li ho combinati insieme. The Adelisland 2 si mostra con due video, uno di gameplay e l'altro per quanto riguarda le edizioni, diciamo, speciali. Come ben sapete, il gioco è prodotto dal Deep Sea, sviluppato da Dumbuster Studio, genere sul loro RPG Action, lingua in italiano, uscirà il 28 aprile 2023 su Prestigio 4, Prestigio 5, Xbox One, Xbox Series X, S e PC. Giustamente porteremo in collaborazione la recessione Unboxy con GameStarter. Allora, arriviamo al primo video. Il gameplay. Il gameplay ci viene mostrato un po', diciamo, alcune sequenze di combattimento, cutori zombie. Da quello che possiamo notare, si potranno utilizzare sia armi da fuoco, e armi da corpo a corpo, che potranno essere anche modificate e potremo, diciamo, personalizzare con degli attacchi, ad esempio, elettrici o con degli attacchi che possono incendiare i nemici. Un'altra cosa che si è notata dal video gameplay, che possiamo fare degli attacchi, diciamo, violenti, una specie di finish, sui zombie, dove li finiremo in modo cruento, diciamo, in modo violento e frenetico. Ecco, sembrerebbe, diciamo, dal punto di vista del gameplay, sembrerebbe che ci hanno fatto capire questo. Ovviamente, quando avremo il gioco, potremo verificarlo pa' dalla mano. Poi, il secondo video, ovviamente, ci viene presentato le edizioni che saranno, diciamo, disponibili in prenotazione. C'è la Deluxe Edition, che include due pacchetti, quindi in questo caso un personaggio premium, costume e un'arma, diciamo, personalizzata, originale. In più, alcune, diciamo, alcune armi, un pacchetto armi. Ovviamente, chi prenoterà questa edizione, cioè, riceverà, scusate, mi stavo mangiando le parole, riceverà altri contenuti bonus, che sono altre armi, altri vantaggi per potenziare il personaggio e il suo equipaggiamento. Poi c'è la Gold Edition, che contiene tutti i contenuti della Deluxe Edition, più il pass di espansione, che aggiungerà, ovviamente, nuove missioni e nuovi extra. E poi, ovviamente, c'è l'edizione normale, che, quella ovviamente si sa come sarà, quindi ci sarà solo dentro il gioco, più qualche contenuto digitale come pre-order. Bene, ragazzi, direi da passare al prossimo thriller. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua con un nuovo videogameplay di Dragon Quest Trensures, prodotto Square Enix in collaborazione con Nintendo, ovviamente sviluppo interno, genere RPG action. Lingua giapponese, inglese, cinese, con il sottotitolo in italiano. Uscirà il 9 di dicembre 2022 come esclusiva Nintendo Switch. Noi, ovviamente, appena lavoremo tra le mani, porteremo la recessione a un box. Il nuovo videogameplay, mostrato da Game Informe, ci fa vedere, diciamo, circa dieci minuti di gameplay, dove, ovviamente, ci viene spiegato un po' il combat system. Il combat system noi potremo, da quello che si capisce, reclutare le creature e utilizzarle in combattimento per lottare contro altri mostri. Sembrerebbe molto interessante, perché è come una sorta di Pokémon. Praticamente, noi troviamo un mostro, lo combattiamo, lo possiamo catturare e utilizzare. Ovviamente, la trama, grafica e tutto, sarà da valutare a gioco completo. Quindi, quando lo avremo tra le mani, in collaborazione con Game Start, porteremo alla recensione a un box. Direi da passare al prossimo thriller. Ci vediamo tra poco. Meno male che il 2022-2023 ci aveva pochi titoli. A quanto pare ne stanno uscendo anche un botto, tra cui la data di uscita ufficiale di Spongebob Squarepants The Cosmic Shake. Il thriller è stato pubblicato da THQ Nordic, ovviamente con il tema di sviluppo Purple Lamp, genere e platform avventura, lingua inglese, italiano, insomma tutte le lingue verrà tradotto, in uscita del 31 gennaio 2023, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, PC e Nintendo Switch. Il nuovo filmato fa vedere alcune sequenze narrative, tra cui ci viene anche confermato la presenza di tutti i personaggi iconici del cartone animato, tipo Patrick, Spongebob, eccetera eccetera, e poi alcune sequenze di gameplay, come avevo detto prima è un plato fra un'avventura, quindi aspettatevi salti sulle piattaforme, le trappole da evitare e ovviamente i nemici da affrontare. Insomma, artisticamente sembrerebbe un bel passo avanti, anche come gameplay sembrerebbe divertente. Appena lo avremo tra le mani, in collaborazione con GameStat, porteremo la recessione e unboxing. Per l'attesa goditevi questo piccolo thriller. Bene ragazzi, questa è la fine della videotiprima, spero che vi sia piaciuta con le notizie che abbiamo messo e noi ci vediamo per i prossimi video. Quindi lasciate un like, un commento, se volete dite anche voi la vostra opinione e vi ricordo anche di passare nella descrizione per vedere tutta l'informazione per quanto riguarda la redazione e un saluto dal misterioso D-D-Blue e da vostri amici con bombe, alla prossima, bye bye! D-D-Blue e da vostri amici con bombe, alla prossima, via la prossima, via la prossima, via la prossima. Grazie. 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 Grazie.